Io sono Katie Fusco, sono l'ARPA, sto intraprendendo un percorso in cui mi sto dedicando un po' alla ricerca sonora dello strumento perché per quanto mi riguarda l'ARPA è uno strumento che va ancora scoperto. Ricerco dei suoni poco tradizionali, ricavati con oggetti o comunque non che vengono solo ed esclusivamente dalla nota, dalla corda. Qua a Venezia sarà la prova zero di questo nuovo progetto in collaborazione con Sharon e Gabriele. Per prepararci a questa residenza abbiamo preparato una libreria gigantesca di immagini trovate e rielaborate. Diciamo che ci sono quattro componenti, il materiale visivo di partenza, l'effetto, come gli effetti reagiscono alla musica e poi l'impatto scenico generale. Sharon e Gabriele hanno proprio colto quello che ha la parte centrale del progetto, a vedere un'ARPA non come lo strumento che siamo tutti abituati a vedere, ma la composizione invece dello strumento, quindi il budello delle corde, il legno della struttura e poi la meccanica. Quello che è uscito fuori è in realtà qualcosa di molto evocativo in rapporto alla musica. non solo il disegno luci, ma anche i visual sono audio reattivi. Oh, no, 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 no No, 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 no Non solo lapunkt di genere è in realtà e non solo le metà di meno, non solo la musica si fa. Non solo la musica di Magdà Grazie a tutti. Grazie a tutti.